Questo percorso lo dobbiamo fare tutti in Siena. Nessun paese può essere solo dalla crisi, nessun popolo si decide a Berlino o a Bruxelles. Questo è inadmissibile. Nei prossimi giorni in Venezia. Non voglio parlare moltissimo, voglio ringraziare anche tutte queste persone che hanno veramente un momento di allegria, di fantasia e di speranza, che magari non ci sentiamo molto più vicini di qualsiasi altro questo momento, anche per la vicinanza possiamo dire di... La brigata Calimera, di cui faccio parte e sono fra... Per cercare un nome semplice, per cercare di dare... L'abbiamo chiamata Calimera perché speriamo che il 25 gennaio sia davvero un giorno. È stato capace di dare grandi esempi, non è facile, siamo più di 200. Con i bambini, attivisti, politici e sociali, media attivisti...